eccomi qua allora facciamo finta che non sia successo niente questa è la demo di warthead un jrpg ma non credo sia fatto in giappone e ispirato chiaramente ai classici 2d e niente rinizio perché ero mutation non ho parole comunque tra l'altro la musica è molto bella questa è una piccola intro dove ci spiegano che la demo non è l'inizio del gioco è ambientata a metà diciamo dove si incontrano gli otto protagonisti e la prima parte del gioco invece è costituita da capitoli dove si giocano loro uno per uno e per loro aveva senso praticamente far provare direttamente questo pezzo no è quello che dice nei dialoghi qui non vado a rileggerli perché vabbè ma dice appunto degli otto protagonisti è un po stile octopath travel no anche lì ci sono gli otto protagonisti ok e siamo nella biblioteca quindi noi siamo questo gruppo di genti che sta cercando un libro come dice la nostra amica agatha qui if we're looking for a book this must be the place how are we supposed to know which one i suppose we can introduce ourselves the people here they will understand me right they speak my language and I've never had a problem understanding your dialect the books send out the old smell and the many pains besides this guy on the other hand believe it or not he's learning gerund very quickly he only started speaking it a few weeks ago but I don't know if the people here will understand him let's hope not you said it not me I stand here alive and hearing let's go quindi stanno cercando questo libro e si sono detti quale posto migliore di una biblioteca per trovare un libro quindi abbiamo dietro anche un animaletto che non so di che tipo sia sembra un piccolo ipopotamo ma io con gli animali non azzecco mai mai nella vita quindi un animaletto che parla però uh can i help you who's in charge of this place you're looking for dr dacier like the rest of us she's very busy vedo infatti si è impegnatissimo i wish that floor collapse hadn't happened we almost had a complete chronicle of the western gerund kingdoms one of these has got to have something about dismantling the security spells shh go away i am busy i have a few words i can tell you no no non compro niente amico mi spiace non compro niente hey you can't just barge into a dig site like this ops quindi è una tipo un archivio barra biblioteca e anche un sito di scavo perché loro sono archeologi non compro niente you spend seven years learning to read shinari inscriptions only two of the lead researchers force you to learn yinish in a dirty basement in six weeks ah i should have been a plumber always be careful in here safety standards are a joke when you're doing field research the book is in an is in an unrecognizable language there are some notes of on small slips of paper in rainies tucked into the pages throughout the book are you the person in charge of the site i am might i ask who you are i am agatha of the phylax i'm here to find a book called the palimpsests i have a letter of introduction a letter of well that's a bit quaint would you mind telling me who's this from if you read thai chick it's clear thai chick it's not my strongest language but let's have a look it's clear thai chick it's clear thai chick it's clear thai chick it's clear thai chick it's clear must descend into view the palimpsests himself well this is an exquisite forgery i must say whoever did this knows the handwriting of the crown is quite well but he would be nearly a hundred and fifty years old by now so i don't think show her oh now i have the value oh are you he's not kiraunos is he he's really let himself go no but he is a mage too i am quite literally staggered i've been below and i've seen remnants of the ancient magic but i never imagined it still existed in actual living people there's still magic in this building in a manner of speaking we've never been able to get past the fourth level below here because of uh certain forces and just recently there was a collapse that limited us even further but maybe you can open the way i honestly don't know what to believe we have to go down there sooner rather than later i'll tell the others to let you pass if the ancient records are correct the palimpsests should still be in the lowest chamber you'll definitely know it when you see it but nobody's been that far in more than a century then we have talked about it with the director here we have said that we have a letter of recommendation for this book of text antico we have also given a demonstration of the fact that one of us is a mago who uses the magia is remained shocked and said that if we are able to go there is no doubt of the fact that there is something that there is a crash and so we have already done progress limitate figuriamoci adesso col crollo però si fida di noi per questa lettera per le dode magie che intanto ho premuto il menù non so per quale motivo non volevo fare questo possiamo scendere? può scendere di qua? di qua mi sa aspetta però perché fermi tutti stai uscendo di qui? c'è uno scrigno c'è del loot questo era del loot come si arriva a dirgli da un altro posto? ok parliamo con questo quindi ci sono creaturi creaturi quindi la ci sono i turni certo che non ha neanche mezzo tutorial questo gioco classic proprio fino al midollo quindi abbiamo gli AP che sono il corrispettivo degli MP qua sono in percentuale però silenziato perfetto quindi è proprio turni turni dove tutto si ferma non c'è fati bene o no riparò speriamo com'è ripi 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 ok quindi le creature si vedono sullo schermo questo è un nemico ok voglio capire chi è il curatore quindi questo terra infligge sanguinamento e da penetrazione questo è un taunt attira gli attacchi quindi attira gli attacchi su Agatha per 3 turni e diminuisce la forza del nemico quindi lei è tipo un tank ha una lancia lei credo di sì quindi questo è di tipo slash su un nemico singolo assorbe il 50% degli HP quindi lei è una specie di tank sicura anche ok e vedo adesso che HP e AP non vengono ripristinati tra un combattimento l'arbitro ok ok ve lo fare questo quindi questo ripristina gli HP 10% questo è danno da vento questa è una buffer lei perché ha la porta e la velocità ha e cura anche quindi una curatrice barra buffer tantissima la bestia qua è un'ipopotamina forse quindi nemici visibili sullo schermo ma non so se evitabili non credo perché questo per esempio bloccava proprio l'ingresso de chi o de lì? de chi? è un'ipopotamina è un'ipopotamina è un'ipopotamina proviamo a a a a a a l'auto target su chi ha bisogno oh la la a questo è immune immaginavo quindi quello lì era diebole ai colpi di ben per usare magia ok ok vediamo qua come vado di lì però un tonico qui non si passa oh tomo magico non so cosa sia cosa serve brava ma com'è belenata brava ok esaminiamo tutte queste cose qui perché no non ci posso che è successo dai ben usa la magia non ci sono non ci sono I think it's just a bug But it smells different Less decayed than the others Let me see It oof How I don't get it It's like Trying to lift the boulder It is the magic The little one is to take Me? I'm not as strong as she is And she couldn't Huh Just give it a try Aha Ah It's just a bug For you it is Maybe we can get through the spell now So I found it Blocking Da Una magia Ben ha provato A correrci contro Ma non funzionava E abbiamo notato Che questo libro Qui di fianco Era diverso Dagli altri Che abbiamo visto Quindi era conservato meglio E Ben ha detto Guarda che questo libro Qui Lo deve prendere Alexandra E così ha fatto Mentre gli altri Non riuscivano Nemmeno a sollevarlo Alexandra è riuscita a prenderlo e ha tolto la barriera magica da qua cos'è questo? oh una pozzoncina per there is a book here pick up wind bug lo prendo oh no ah quindi questo era il libro del vento questo è quello della terra quindi devo piazzare questo per passare di là vediamo con questi se c'hanno roba uh l'actome pomo della fortuna qua c'era qualcosa no ah qua posso entrare di lì mi sa allora abbiamo detto che quello lì ah non si curano neanche gli status alterati questo è un problema ne basta qualcosa per il veleno ok mi piace chi si chiama mother's milk la cura mother's milk è anche il nome di un album delle dot chili peppers perché è come il cuc che si chiama Porca vacca, devo curare quello Mi è arrivato lo splitter HDMI Finalmente posso tentare di registrare la famosa Speedrun di Like a Dragon Infinite Web L'ora, sei pronta adesso Sei prontissimo Non mi ricordo perché avevi bisogno dello splitter però È da Play 4, no? Non ti bastava una scheda di acquisizione? Forse l'avevi già detto al papero ma non mi ricordo Questa cosa Allora Che cos'è? Ah Magia più uno in modo permanente Fortuna Magia Sempre lei Tutto lei Usi accessori Armature Con lo splitter collego HDMI sia alla tv che alla scheda di acquisizione La mia capture card è una pennina senza lup Ah ok Ok Queste sono uniche le armi? Ho sbagliato Mi devo abituare coi controlli perché boh Non è molto comodo comunque il menu E ogni volta devo ricliccare qui perché poteva rimanere selezionato e farmi equipaggiare Quindi questa è per lei e ha senso che io la cambi Qua cosa mi racconta la storia? Ok Va bene Andiamo qua Sì ma basta con questo avvelenamento però eh Perché non è che ho rimedi infiniti Non è neanche a picco lei Abbiamo oggetti tipo Non cura niente No vabbè Lui ho le cure però È possibile davvero che nessuno ha una roba? Urca gli ha fatto un botto di danno Non segnala tra l'altro che è avvelenata nel menù? Ah allora con il level up Toglie gli status alterati Oppure non si può usare al di fuori del combattimento Sono un po' confusa Una moneta fortunata? Strength Tome Eye potion Vediamo un po' Certo che sarebbe utile vedere le statistiche Vediamo ad Agatha Scusa non c'è una schermata dove ci sono tutte le statistiche? No? Beh Qua niente Sì mi è rimasto il veleno Eh amico Cerca di essere calmo Brava Agatha Spacca tutto Curiamo un po' Pala Poi ci vuole magia Cioè qui serve una schermata Delle statistiche Se non c'è Che si vedono solo queste cose qua Serve un bestiario Dove puoi fare una roba Ah no eccola qua Sono qua le statistiche sull'equipaggiamento Ok Però serve un bestiario Per fare il punto sulla situazione debolezze Anche perché qua è dura insomma Va bene fare le robe ispirate al classico Però Un po' di comodità in più Konbawa Hitomi O genki desuco? What was that? The book is to fly out of my hands I guess you can't bring books to the next floor Quindi i libri che abbiamo usato per risolvere l'enigma Funzionano solo sul piano Questa è cosa buona e giusta Perché non complica eccessivamente le cose No il veleno no però Il veleno no È un incubo Il veleno no Fiamo così? Oh Azzui Bene 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 Salve signor Papero Come va? Un altro giocaccio del discount Ma smettila per piacere Pensate Torna a giocare ai primi discendenti Come geni Afe Brava Agatha Attenzione Abbiamo i due libri qua Togliamo questo For Forza What are we to make of the disappearance of the Shinari people? Later, historical sources are unanimous in stating that they created magic and dominated the world with it The sources are equally unanimous about a great disaster that destroyed the Shinari Empire, the so-called year of storms and darkness The ancient witnesses tell us barbarians who entered Shinari cities after the disaster found only non-Shinari, mostly slaves and prisoners still living there And indeed, except for Shinari loanwords taken up by the barbarians, there is no linguistic evidence of a transition period where Shinari survivors mixed into the new cultures What sort of disaster could have swallowed up the mighty Shinari people while leaving behind virtually all of their material culture? Jose, revive Eh, devo prendere anche questo qua, però Qui non si passa, vero? No Cos'è? Mettiamo quello del vento Però adesso? Non ce l'hai un nest per sta roba? Eh, c'ho lo snes mini Che non ho mai usato Eeeh Ok, così No, 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 no Aspetta però, mi sa che ho bisogno qua Così, passiamo da chi? Evade Tome Evade Tome No, 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 no Prendiamo questo Voglio, 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 voglio questo Ma devo mettere il vento Però è un problema questa cosa Perché se io prendo questo Come lo metto? Come lo metto? Qua Poi passo E metto qua il vento I have repeatedly protested to the abbot No, 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 no Lui deve morire Benny Cura un po' tutti, va là Benny boy E uno non si può fare in tempo a curare Che è Revive Black Tome Allora, spettanatemi Spettanatemi Voglio tenere una roba 27 di evasione 1 9 12 Beh Beh A lei Ovviamente Quindi Adi qua Mi sembra un po' aggressivo amico Ora va là Ho messo un fatal error Ormai che ci siamo Ok Dammi quel loot Ok Ho bisogno del libro qua però Come so Uomo magico Vorrei dire che dovrebbe rimanere selezionato 14 27 90 su 100 ben 25 Ah lo diamo bene Ah lo diamo bene Vada preferisco il debuff della speed Che l'avveleno ma tantissà avvelenata Lo stesso Allora ho bisogno del libro Che è su Devo fare così però Mi sa Aspetta però dove lo metto scusami qua Eh non lo posso mettere in nessuna parte qua Oh beh Andro giù Oh qualla faccenda si complica So How do we get past This one I didn't feel anything What about you Running at it Wanna help What I to go The lie down No more The magic mazes Bravo ragione I also Not Taste The magic I wonder if The others Are here Chi sono gli altri Gli altri quattro Ah Quindi sei diviso Quattro Quattro E porti avanti le storie Così Tra l'altro Chissà se Puoi decidere tu Il party Perché io ho letto Swap Nel menu Però pensavo Lo swap fosse Per i membri del party attivi Invece potrebbe essere Lo scambio De due party Ma sì dove sono poi Nelle vicere della terra Velluto non si prende da qua Nicolai Ok Wait a sec I can't even see my hand in front of my face in here Anyone got a lighter? Can't find mine No need Oh la la Wow Can you just do things like that Anytime? You seem to have rather Parochial ideas about magic I think what Kudelia means is that In our country People use magic for all manner of tasks Even children know spells like these Where I'm from You can get shot For using magic without permission This place is not in very good condition Is it? Yeah The inside of this place is more overgrown than the outside How does that work? It's the box I suspect that before they were forced to abandon this place The last few scholars cast a spell to preserve the paper the books were printed on But that spell doesn't distinguish between the paper and the plants that paper is made from 200 years later it results in this So, do you know which book is the one we're looking for? The writings about the palimpsests say that it cannot be moved So this whole monastery was built around its resting place Quindi il testo che noi stiamo cercando Praticamente non può essere rimosso Da dov'è Per questo è stato costruito Tutto attorno a lui fondamentalmente I suspect he will be in the lowest chamber I guess we have nowhere to go but down then Quindi loro sono giunti alla conclusione che è nella Camera più in basso Nella stanza più in basso Cosa che noi sappiamo già perché ce l'ha confermato Dossier La Responsabile del sito di scavi Un magic tome Vediamo un po' Chi è il maco qua? 14 di magia 36 Credo sia lei 31 31 Ciao Melissa come stai? Tutto bene Tutto bene Come va? Quindi qua possiamo andare No, non possiamo andare da qui Ci vuole il libro della terra Is this part of the book magic? In a sense I think these are part of an old inventory control system They were meant to restrict where visitors could take certain books I think it segregates the books by magical element Couldn't the two of you just undo it? Your magic must be more advanced than anything these people had If I had several days and some tours I could certainly break the seal We do not have that much time So what do we do? Brava Sfama al duca I believe this particular code And uses wind magic Only a wind mage could carry the correct book past it We should find another path Ah, ecco Ci vuole proprio il mago dell'elemento giusto E noi l'avevamo in squadra prima Vediamo cosa fanno questi No, il veleno! Che marroni! Allora, che fa? Questo è quello che recupera gli api Poco Ah, questo qui è tipo l'analisi? Questo mette bruciatura Questo dà addirittura Dal turno all'aleato selezionato Andiamo Acqua Allora, che fa? L'altro si chiama Ice Spike Ma è Water Damage Quindi Ghiaccio O acqua Acqua L'elemento è acqua Però La colpa si chiama Ice Spike Ma è l'allora? Che cosa è A Mida di questa? Schifo doragno Pensate ok quindi dobbiamo andare di qua noi Magic Tome Ether per forza The Key il tomo però lo diamo ancora a lei quindi qua e là non si va solo dritto qua non si va immagino no qua non si passa no vabbè sti ragni devono morire morire devono ma guarda che roba può morire grazie si sembra carino tra l'altro la musica del menu è bellissima del menu di inizio del gioco praticamente all'inizio della demo spiega che questa qui è la parte centrale del gioco perché il gioco si apre con un capitolo a testa per ognuno dei protagonisti e questo invece è il momento in cui si incontrano tutti e otto perciò per gli sviluppatori aveva più senso far provare questa parte del gioco dove appunto sono già tutti assieme piuttosto che i singoli protagonisti bevono bevono praticamente avrai presente forse sì è un po' come Octopath Traveler dove ci sono otto personaggi solo che qui le storie sono connesse mentre nel primo Octopath non è così hanno capitoli singoli per tutto il gioco fino a credo un finale con tutti ma non avendolo ancora finito non lo so con certezza sì quello lì è brava quello lì quello lì però era il 2 comunque sì la serie è quella lì anche qua ci sono otto protagonisti allora mi studi di animale anatomi e l'anciento fossili ha ledto me to the singular conclusion the natural order of beasts was shattered in relatively recent times for eons the number and kind of predators that dwelt upon the land were relatively few too many predators would only result in fierce competition then suddenly there was a great flourishing of dangerous beasts in all climates this transpired without a corresponding growth in the number of prey animals this was the dawn of magic using monsters who fought each other as much as they sought prey what could have caused this unnatural circumstance? ti piace la grafica pixel? sì è molto carino da vedere molto carino fatto bene comunque mi ricorda un po' anche chained echoes qua è un vicolo cieco? sì tra l'altro non so quando esce perché questa demo è uscita un po' di tempo fa ma non ho idea di quando esca il gioco completo è un po' di tempo oh e poi scusami ma questo fammi vedere un secondo fire e wind quindi fuoco e vento è debole non abbiamo il vento noi ah quindi lei anche la carica ma ho fatto una cazzata con lei puliamo un po' tra l'altro chissà perché si chiama whartet quando tipo loro sono in otto ma qui non si passa perché il libro è questo qua sopra il libro dell'acqua perché vanno a coppie di quattro mmm Grazie a tutti. Non so come messo con l'acqua. Bene ma non benissimo. Cosa fa? Che punio! Prima deve essere un po' calmo amico. Mantesso, buonasera. Anzi buonasera, buon pomeriggio in realtà. Non è tardi oggi. Perché sciopera? Ma questo... È immune, ok. Vai col fuoco? Sono quasi le 22. Eh, quindi dorme? Non ci crede nessuno, guardi, che dorme alle 22. Ma proprio nessuno ci crede. Nessuno. Dammi il loot. Mega Ether One. Magic Tomb. Magic Tomb. Questo ce lo diamo a Cordelia. La da dove veniamo? Dobbiamo andare da chi? Questo... Strength. Fermi tutti. Allora... Non è vero. Nikolai. Strength. Dov'è? Dov'è? Sono un'arba? Sarebbe l'attacco? 78. No, sgranchirsi. Adesso mi sgranchisco. Ok, quindi Nikolai. Nikolai, mangiti sto libro. Mai visto in più di dieci anni il mantesso dormire alle 22. Lo sapevo io. È un nottambolo il mantesso, fa le ore piccole. Alle 22 lui è ancora lì che fa pepe, 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 così, eh? Ma si invecchia alle 21 si russa, già. Guardi, guardi che le si allunga il naso. Le si allunga... Guardi che rompe lo schermo con quel naso lì che picchia contro lo schermo. Non ci crede nessuno. Sto bene, sto bene, io dai. Aspetta che mi sgranchisco che... Penua riscattenghi. Ok. Devo dire che ho sentito dei croc, cric, crac abbastanza inquietanti. Mi ero fatto il conto, ha detto il lunedì, quindi martedì invece è proprio lunedì. Ha visto? Sorpresa! Surprise! Guarda che il libro torna al suo posto. Angex. Angex. l'entrata è la stanza 4 l'uscita è la stanza 6 la porta a sinistra porta indietro di 2 la porta a destra porta avanti di 3 posto siamo non solo ah eccola qua non solo labirinto ma matematichese siamo in Ohio andremo a sentimento andremo a sentimento aspetta però perché guarda lì ci vuole il tomo quello là a caso guarda qui a caso abbiamo trovato il tomo del fuoco non mi ricordo più niente ma nemmeno io Melissa guarda eh guarda come si fa guarda che ti insegno una tecnica una tecnica potentissima ma vedi quanto è potente attenzione no potentissima ora che non si dica che non mi so orientare nei labirinti easy 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 allora evade non lo so però strength a lui vediamo un secondo sette sette tredici ho sbagliato tredici diamogli qualcosa a sto povero zikaron zikaron se viene torco zikaron troppo potente visto c'è che quando uno è forte the master of maize qua c'è lutto senza pericolo ma non passo sì che passo guarda il clan chissà se ci sono muri stile no eh final fantasy dove ti infili no no adesso mi avvelena tutti ornutazzo maledetto di un ragno schifoso adesso ti faccio vedere io ti dico due parole no spazio spazio no era giusto refreshati un po' questo ti prendi questo in faccia e muori subito subito bravo poi non mi mordere tacci tua no ma voi siete stronzi veramente e io questo c'è è morto il veneto esatto ma ora non più ora è tornato oh basta oh basta becchi di questo becchi di questo tu non ti becchi di niente perché lui non ha cosi yeah ciao peoli tanto prima loot lascia stare duca ma perché perché gli grida ma io veramente ora bestia no ho fatto un cagatone un cagatone ok più ne vuoi dare di colpi mangia più lui di melissa lo lasci stare e un cagatone Grazie a tutti. Anch'io prima l'ho fatto. Qualcuno può chiamarti pompieri. Senti Serpa. Usiamo la Serpa per ricaricarci un po' gli HP, va? Non gli HP, gli MP. E qua non si chiamano MP, ma si chiamano AP, insomma avete capito. Ice Spike. Che ci fa lei qua nel gioco? Lo usiamo. Bravo Mantesso, 470 di danno ha fatto. Bravissimo. Ha lavorato bene. Loot. Blood Sword. Blood Sword. Se io non sbagliassi ad entrare nel menu. Fermi tutti. Ma in che senso meno attacco? Non ci sto. Ma perché è meno potente di quella roba che ho io? Oh. Che è stata cafonata? Visto? Mi è andato a nervoso. Ma io veramente non ho parole. It is an indisputable fact that magic, as we know it, lay dormant for as much as two millennia between the fall of Shinar and its rediscovery by the Etrun Empire. On this point, all scholars agree. As to what happened during the Great Lacuna, there is only speculation. We have many unverifiable tales. Of the Yina and other wandering tribes, we were able to channel some amount of magic while close to a magical artifact of ancient provenance. No such artifacts have ever been discovered. If a portable source of magical energy did exist, it would be among the world's most valuable objects. Non possiamo fare la nanna nel letto. Peccato. Adesso siamo in Nebraska. Non voglio consumare gli api. Ma non mi fare il doppio attacco. Baggati questo. Fungo. Stasera risotto con i porcini. Cac. Si sono fatti la doccia. Cosa abbiamo qui? Una corda che scende. Ma noi vogliamo loot e quindi combatteremo. Tre serpi. Cosa è debole? Bookworm? Saetta! Grazie mille per il ride. Come stai? Facciamo uno shoutino. Cosa giocavi? Tekken! Allora. Non c'è scritto cosa sono dei bolliste bestie schifose. Proviamo questo? Non ha crittato. Jerome qui deve un po' recuperare gli api. Ma che è questa? Serpa in seno? No. No, il veleno. Non è giusto. Scrivo una lettera di protesta. Dammi il loot che mi spetta. Elisir. Oh però. Quella roba lì? Quella roba lì? Niente. Vabbè. E allora scendiamo qua. Dalla corda. Non si va di qua. Scherzavo. Neanche di qua, né? Archivi. Potrebbero anche pulire un po' queste stanze. Ci sono rampicanti ovunque. Eh, ragione. I don't suppose the gate is magic too. Ciao Saetta, come stai? It appears to be real. The mechanism, on the other hand... Oh. Others? Where? Something happening, it might be them. Ah, eccoci. Can we... Do we let them through? What will happen? More importantly, how do we do that? Grande, Ben. Remember to me who is the idiot. Ben, secondo me, sarebbe il personaggio preferito del Mantesso. And they are gone again. The fact that we can see them suggests that we are close to the magic of the... Palimpsest. So, let's hope so. Bene, grazie. Quasi finito la campagna storia di Tekken 8. Mi manca il finale alternativo e poi gli episodi personaggi. Dopo la campagna ho fatto scontro con uno nell'online. Bravo, bravo. Anch'io quando giocavo a Tekken facevo la storia. Io sto bene, sto bene. Mi è appena uscita la frase... Fare questa cosa è una lama a doppio manico. Invece che a doppio taglio. Che svampito che sono. A posto. È il caldo, è il caldo. Come mai? Trolla? E adesso vede. Ah, ecco. Press R to switch between the two parties. Work together to solve the puzzle. Oh, no. Prima di giocare a Tekken 8 ho giocato il primo e il secondo. Io ho giocato il secondo. E tag. Spera, secondo. Tekken tag. Il primo Tekken tag. E poi Tekken Revolution. Basta. Anch'io facevo le storie. Picchiare il mantesso era troppo facile. Ecco. Quindi R. Però, fammi guardare un po'. Pomo magico. Me lo devono fare loro, se cosa, sta questione qua. Dov'è il tomo rosso? He. non so ancora perché bene sarebbe un personaggio a me gradito guardi come questo gioco si è carino è una demo è la demo di un gioco che non so quando uscirà però è carino è ispirato ai jrpg 2d classici io ho bisogno che ho bisogno del libro blu ma non c'ho il libro blu non è qua ah si non c'è il blu blu ah infatti quello cos'è non dovrebbe cosare questo ma trolla se prendo questo al contrario c'è un problema che lo devo mettere qua il problema con un po di lavorino ma sono tornate indietro o sono in un'altra stanza è tu uguale no non sono voluta qua questa panchina serve a qualcosa this report suggests an overall rise in the prevalence of magical energy we know that euron no etron apprentices were drilled under the most demanding conditions and that their training book up to 20 years and yet training took up to 20 years and yet a modern child in his second year of magical studies can channel more effectively than an etron magister until now this discrepancy has been explained by innovations in understanding and application of modern magic but this is a deeply uncritical notion in our own time even the feeblest peasant tinkerer can cast spells that would have stunned the etron surely this cannot be explained by rising educational standards guarda e fai silenzio devo seguire non disturbare un'altra melissa qua oh segui il gioco ecco ma cosa sciopera il mio obiettivo è andare da lì o da chi? ah lì è extra se voglio del loot però il mio obiettivo è andare di qua eh maam lui il non capisco se io voglio quello là fa tutto il giro attenzione tonic ho capito solo USA USA anzi si scusa scusa amico qua mi deve aprire la non si arriva e qua non si passa ok abbiamo preso l'acqua tonica magari per me ragine the jina presenta with one of the only living historical links to the first age of magic despite numerous periods where their nation was deported they have maintained written histories farther back than any other living tradition indeed these histories may even overlap with the Shinar period in this treatise therefore I will address the textual integrity of that tradition and make a case for inviting genus scholars into the historical discourse ok non volevo fare questo se faccio così no ah ma io volevo fermi tutti volevo prendere il libro cosa che non ho fatto volevo prendere questo libro aspetta un secondo però ovviamente di qua non passo giusto sì che passo Iris non so cosa parlo a fare cosa parlo che cosa qua va lei stia tranquillo stia tranquillo che qua ecco tutto facciamo risolto oppure no ho preso quello ma adesso non so come fare potevo ancora andare di là no non credo boh non lo so devo aiutare loro di qua l'altro dov'è il libro rosso? andiamo ok passo passo che cosa che sembra giusto ma non è così vedo fuoco ok così ma perché non va? perché sembra giusto lì ma non va qui? non capisco non capisco come torno di lì? aspetta un attimo ho aperto lì e a cosa serve? niente eh ah no al loot coronet coronet non va sono contenta ma non remi contro che già il didagio è potente e il mio problema è con loro devo passare da qui no così è per tornare indietro aspetta che adesso però loro possono passare di qua perché io ho aperto forse per così ma serve? sì ma scusami ok postaccio un postaccio quindi noi siamo tipo noi stessi nel passato e nel presente cioè non noi stessi però come uno specchio e siamo tipo la reincarnazione qualcosa siamo le stesse persone però in epoche diverse no? per quello si chiama Cortet perché siamo sempre noi quattro ma noi quattro tipo o i nostri antenati o altre versioni di noi non so se riesco a spiegarvi mi sa che non sono riuscita a spiegarmi vero? per me che ho seguito dall'inizio è così meta strength io vedo io ho capito ok a posto allora più o meno mi sono spiegato forse guarda qua eccolo qua quindi tutto questo per cercare il libro che stava nelle profondità di questo sito di scavi e finalmente siamo riusciti a trovarlo non ho capito esattamente che cosa sia questo libro di chi sia perché lo cerchiamo perché appunto vabbè è a metà del gioco sta roba quindi c'è tanto altro prima didn't the old guy say so of course but it's not a thing to actually see it this book is a piece of history the stories say it is the oldest book in the world written in more than ten languages sometimes one language right on top of the other perhaps I have a moment to study it before the others arrive no ti prego non me lo merito non me lo merito quindi mi devo prendere il libro della terra con le strade tutte aperte adesso il libro della terra il libro del vento in realtà che è non si sa dove dove l'ho lasciato dove l'ho lasciato io non seguo più tanto nessuna di queste dieci lingue è comprensibile certo ho appena finito di pranzare veloce ora mi preparo che ho un impegno grazie per grazie per la chiacchierata e alla prossima ciao Saetta grazie mille ancora per il ride buon pomeriggio ma no che non me lo merito mantes già sono disorientata di mio altro non posso più cambiare i parti quindi vuol dire che la soluzione è qui come passo qua amici era più semplice di quanto pensassi avevo già il libro in mano fantastico e prendo pure il loot poison rune aspetta un secondo beh questo se quello lì lo deve mettere per forza lei più cinque di forza volia 22, 17, 15 22, 20, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20 Lui la magia? No, questa era quella di prima, lei non ha nient'altro, non che lei credo, vai, come quelli che cercano gli occhiali e poi ce li hanno in testa, ecco, io non menterei a lui invece. Mother's Milk, bei tempi, l'album delle Dot Chili Peppers, l'ho citato anche prima, quando lei non c'era. Oh, vediamo cosa succede adesso. I think we might be close. Questi? Il primo di frusciante, trappi ricordi. Il primo frusciante, anzi. Speed Dome. Bellissimo, tra l'altro, quell'album. Come tutti i loro album fino ad un certo punto, poi... E trappi ricordo. tra l'altro non siamo per niente curati io facciamo bastare così facciamolo io l'ho mai salvato giusto per perché sento puzza sento puzza di boss lo salviamo i dischi senza frusciante non me li ha nemmeno fatti ascoltare è bello anche se non c'è frusciante non sembrano neanche loro con Dave Navarro non mi veniva il nome del chitarrista con Dave Navarro quello con Navarro brava a me piace tantissimo non sono loro perché non sono loro sono diversissimi però è un bellissimo disco fa le citazioni serie quando non ci sono spiazze questo è un'ottima questo è un'ottima questo è un'ottima è un'ottima è un'ottima è un'ottima è un'ottima than a hundred years since I was last here conoscevo solo Blood Sugar Sex Magic a me fino a diciamo fino a By The Way diciamo fino a By The Way ok da Stadium Arcedium in poi ho smesso di seguirli hai detto niente infatti I hope to find answers about what had happened to the world but I found only a few notes scratched out by scholars who were left stranded after the change but we have enough problems in the present while we are all standing near the palimpsests I can accurately assess your positions and allow you to cross over once you are all together you must find and eliminate the source of those airships before they are used to destroy anyone else so I cannot travel along its path and there are other risks whoever commands those airships is probably searching for me just as I am searching for him wait are we going to be stuck over there? I think you should be asking him not me c'è bene il mio personaggio preferito prepare yourselves are we over there now? you are indeed I'm afraid we can't offer much of a welcome wait you understand me? and I understand you yeah Zikaron's magic allows everyone to understand each other oh man thank you speaking their language is like talking with grapes in your mouth I think we are to save our introductions for later time is not on our side you know with their magic we should be able to exit via the southwest stairs instead of climbing back up the rope we are ready when you are the words written in this book are indelible across the millennia many writers have added to it but not even one stroke of the pen has faded away ok scusami ma quindi devo tornare indietro pensavo che sarebbe finita strange room ah di qua in questa specie di caverna basement passage someone cut the rope we came down some stairs in the southwest part of the large room we should be able to leave the same way southwest sud-ovest sud-ovest this is a much shorter path than the one we came down wait something isn't right with your wing mage we should be able sapevo io oh la la mi prende pure amazzate tornuto quartet più uno ho sbagliato oba the boss was right but he said there were only four my thanks to you who are those guys not friends listen up normally when we fight in large groups we put the officers in the back where they can safely draw magical energy while the enlisted men fight up front but now our problem is that basically everyone in this group is an officer no matter how skilled you are casting spells still takes a lot of effort right so maybe we just have half of us in the back resting it's a little weird but i think it will work quindi metà e metà e posso fare lo swap delle gente comunque non finisce più questa demo swap quartets non picchiarci non picchiarci Grazie a tutti. 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 Di qua o di là? Voglio uscire da questo posto. Ah, c'era il loot qua. Ok, di qua? Grazie a tutti. Grazie a tutti. So out of breath. Grazie a tutti. I've got a lot of feelings to express. He'll be fine, let's go. Quindi lui ha qualcosa? Ma non si sa cosa? Bene, ben. Che domande. Bene, ben. Vagate. Vagate. I've got a lot of... Who are these people that we're fighting? Huh? They're just frontier barbarians, aren't they? I think she means that their dialect sounds a bit like hers. You've got quite an ear. I wonder if some of these tribes were trapped on the other side when... What the hell just happened? Nikolai. You again? Am I asleep? On the shelf, next to Zikaron, there is a very important book. You must take it. Make the others come back. Take the book. Hurry. A volte basta solo dire chiamo Melissa senza ne manca muovere un dito. Top. This book? I'm not even good at reading my own language. What am I supposed to do with this? It's almost time to use it. But... What's the book for? Pardon? No, never mind. It's nothing. Alle visioni! Io non so dove sto andando. Sto andando a caso. Dovrò salire di qua? E di qua? Due domande ho fatto? Quali domande? Io non so niente. Dai, bleed. Ignorate, mi sono preso. Due ignorate. Una domanda era chi è Ben? E perché Ben le doveva piacere? Boh, perché mi dà questa sensazione. L'altra domanda è... E' appena curato Ben però, eh? sullo swaps. Eh... Non lo so perché non mi ha... Non spiega niente sto gioco. Però nel menu c'è la voce swap. Ma mi sa che durante... No, no, eccolo lì. Swap LR. Posso... Posso fare lo swap della prima fila con la seconda fila. Non ho tutorial. Forse perché è una fase avanzata del gioco. Spero. Eccolo qua lo swap. Ma non voglio fare swap. Continuo a sbagliare. Qual è il mio problema? Non importa, sono sireno. Ecco. Gli bastava seguire Iris. Io non ho colpe come al solito. Ripristiniamo un po' di apivala. Ci vorrebbe anche il tasto memoria. C'è stato così. Ma... Non vi riesco neanche da dire. Dai. Prendiamo di qua. quindi questo qui è proprio super classico nel senso che non c'è neanche il salvataggio automatico non ci sono checkpoint né nulla anche il tasto non perdersi sarebbe il top per ora non sono persa per ora forse no vabbè dovete lasciare stare Benny io non so come dirvelo how long to beat 45 minuti no no avevo guardato un video i video che ho visto erano tra i 45 e l'ora comunque lunghissima non sono tanto d'accordo sulle demo così lunghe dei jrpg nel senso ok devono farti provare un tocco del gioco però secondo me 40 minuti un'ora va bene sopra quello no perché c'è tanta storia io non sto capendo niente usano un sacco di termini del gioco non serve a niente serve che mi dai l'idea o un'infarinatura e poi quando gioco gioco a quello completo brava Melissa soprattutto perché a metà è proprio a metà non sappiamo chi sono loro non sappiamo perché sono questi due gruppi non sappiamo niente cioè è per farti provare il gameplay l'ho provato il gameplay però ho capito com'è sta o no facciamo solo che bene non straccia marroni foro ben però ben dà il cibo a tutti no ho sbagliato volevo fare questo ho sentito signorina le ha detto straccia marroni se lo sapevo che c'era però questa roba qui non mi il gioco mi sta chiaramente dicendo salva perché c'è una boss fight ma sei tu ben ecco visto non diceva di me ho 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 this isn't the door to get out we need to use the main stairs on the right ok pardon scuse moi escusé moi pardoné moi voilà chi è quel losco figuro lì ci vuole fare i picchiati questo finally what happened did you raise a family down there why are you doing this we helped you non sappiamo chi sia questo ma l'abbiamo aiutato a quanto pare we had mutual interests then now you've got a prize on your hand it's just business you turn and work for the army that fast if the prize is right a mercenario quindi i don't know who you all are and i don't care but if you turn surgeon brooch and his little magic creature over to me you can all run along to whatever costume party you're going to that won't be happening nobody ever listens to reason avalanche poi vuoi altri turni non lo so 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 Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Non riesco però a infliggergli Blade. Come scusa? Ma stiamo pazziando proprio... Che mi frega che mi... Quasi lei... Ma cosa grande? Ma cosa ti fa per lui? Pensate... Meno male che mi sono parata... Madonna sto attacco... Ma come a delay... Una cazzata... Quattro contro uno non importa... Guarda come mangia proprio lui... Guarda come mangia proprio lui... Sto corno tazzo... Sto corno tazzo... Sto corno tazzo... Sto corno tazzo... Uuuuuh... Como... Quattro contro uno... L- Fu... Mmm Devo fare charge Ah no Post Potevo caricare con lei Se sapevo che era Devo la ghiaccio Magari potevo fare l'analisi Però dovevo suappare Con quello che ce l'ha Vabbè 1,4 Io ho il doppio della gente Pirletti E certo Quindi abbiamo una Taglia sulla testa Sorry about that Did you know He had a bounty No but I certainly Admire him For the way He got it Il massimo otto Non la so la matematica Io Che volte le diamo Ok I didn't think He may afford us He may afford us A chance To leave Our pursuers Behind We are a small party Our best hope Is to move fast And reach our objective Before They realize What we are after All right All right then We've got a job To do You coming I think I think This was a mistake Hey just stick with me We'll figure this out Avete bene il numero unico esatto Come on Vieni Alexandra Oh optional Boss has been unlocked Access to battle Through the hill point Oh è finita Bello comunque Mi è piaciuto Sì Credo sia un hippopotamino L'animaletta Sentite che bella la musica La musica Mi piace un sacco Va bene Sì Sembra Sembra molto carino Adesso mi vado a vedere Quando esce Se c'è una data d'uscita Che ripeto La demo è uscita da un po' Comunque Finalmente abbiamo finito Direi che ci possiamo salutare Ci vediamo domani Domani alle 5 Se non erro Ho messo gli orari aggiornati Perché un altro di questi giorni Forse il venerdì Anticipo come oggi Però domani mi pare alle 5 E niente Ringrazio tutti quanti per la compagnia Ringrazio ancora Saed Per il ride Vi auguro buon pomeriggio E poi buona serata E poi buona cena E poi buonanotte E poi basta E niente Adio mis ammi Adio 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 Adio